E' stato il comune di Pesco Costanzo, con il suo bellissimo borgo, gli artigiani, la natura, ad ospitare il settimo evento di avvicinamento al 14esimo Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che si terrà ad Abateggio e Caravanico Terme il 9, 10 e 11 settembre. I borghi sono una ricchezza e tutti insieme sono una forza. E' questo ciò che si vuole mettere in evidenza con il concetto fortemente voluto dal presidente Antonio Di Marco, quello di un festival tutto l'anno. Nei borghi c'è la qualità, la profondità di radici e tradizioni più che l'ampiezza. In ogni tappa di avvicinamento cresce l'interesse verso i borghi ed aumenta la consapevolezza di ciò che rappresentano e possono rappresentare. Lo dimostrano anche le presenze. A Pesco Costanzo erano presenti due senatori della Repubblica, Alberto Bagnai e Gabriella Di Girolamo. L'onorevole Serena Pellegrino, già parlamentare e vicepresidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo, è intervenuto da remoto al convegno Intrecciare, Plasmare, Gustare, Vedere e Vivere, la tradizione come ponte verso un futuro dinamico attraverso il presente reale, al quale hanno partecipato anche la dirigente scolastica dell'alberghiero di Roccaraso, Cinzia D'Altorio, tre maestri artigiani del posto e l'antropologo Raffaele Spadano. Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia Abruzzo e Molise, settima tappa di avvicinamento a quello che poi è l'evento degli eventi. E siamo a Pesco Costanzo. Siamo arrivati in altura, quindi sulla montagna, esattamente a Pesco Costanzo, luogo particolarmente attrattivo, bello dal punto di vista del recupero del borgo antico, ma soprattutto un borgo che contiene una serie di esperienze artigianali e artistiche importanti, non solo per Pesco Costanzo, per la provincia dell'Aquila, ma per l'Abruzzo. E' una giornata intensa di appuntamenti, soprattutto di conoscenza approfondita del territorio pescolano, che ci consentirà anche di vivere emozioni uniche e particolari. Roberto Sciullo, sindaco di questo incantevole borgo, lei ha organizzato anche un convegno particolare. In questo convegno ha fatto venire fuori gli artisti, coloro che con le mani, con la vita, con la loro presenza, portano avanti il borgo e lo tengono vivo. Io oggi ho cercato di far venire fuori l'essere vivo di un paese, quindi ho chiamato gli artisti giovani, aziende agricole giovani, vita, perché molto spesso quando noi parliamo di un paese che ha una bellezza storica quale Pesco Costanzo, spesso lo vediamo come qualcosa di passato. E invece non è così, perché ci si aggiorna, perché si progredisce, perché anche i ragazzi si adeguano, si implementano il loro sapere, vanno avanti. E quindi oggi questo era quello che volevo dire e spero di esserci riuscito.